Avendo sbreccato tanto cibo, ecco i pettini di mare che non avete cucinato bene. Facciamo un frullato, è più comodo. Non ci credo. Frullato di pettini. Ecco, cubetti di ghiaccio con pettini di mare cucinati ore prima. Terribile. Alla salute. Grazie, chef. Alla nostra. Un bel brindisi. Cicci, cicci. È ricco di proteine. Non mi consola. Che schifo. Ti è piaciuto? I baffi con i pesci. Comportatevi da uomini e non come ragazzini. Senti, questo frullato... Basta con le battute. Royce comincia a innervosirmi davvero. Non voglio pensare al lavoro 24 ore al giorno. Se continuo a punzecchiarmi prima o poi scoppia. Da fastidio, ma cerchiamo di riderci sopra. Non c'è niente di divertente. Abbiamo perso. Abbiamo perso. Grazie a tutti.